Giordano, entri e fai il gol alla grande. Sì, oggi è andata bene. Diciamo che il primo tempo forse potevamo chiudere la partita sul 1-0, forse anche sul 2-0 abbiamo avuto l'occasione con Alessandro, il palo di Alessandro, la traversa mia, poi altre occasioni, comunque potevamo fare meglio, però l'importante era portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. Il tuo secondo gol al San Vito, anche se oggi è stato un po' contestato dagli avversari. Sul gol, dico sincera verità, non mi faccio problemi a dirlo. Io non ho visto assolutamente il portiere che era a terra, anzi mi sembra che quando ho tirato il portiere era in piedi e poi a me nessuno mi ha chiamato di buttare la valla fuori. Se poi il portiere fosse rimasto per terra, naturalmente io facevo gol, in quel caso sarebbe stato diverso, ma sicuramente ho visto il portiere che era in piedi e poi ho calciato in porta e ho fatto gol. Non credo che ci sarebbe arrivato comunque. Non so, io non ho sentito e non ho visto niente assolutamente. Cosenza che ha meritato la vittoria, l'Arzanese non ha fatto quasi nulla. Ma io, come ho detto prima, due pali il primo tempo, altre occasioni, comunque sia una con Calderini, un'altra con Manolo. Il secondo tempo credo che abbiamo avuto altre occasioni per chiudere la partita. L'Arzanese ha fatto la sua partita, si è difesa tutta la partita, ha cercato di usare le proprie armi, che erano le ripartenze, comunque qualche palle inattiva, però credo che comunque il Cosenza oggi abbiamo meritato pienamente il risultato. C'è da lottare in panchina, voglio dire, davanti c'è il signore giocatore. Davanti è dura, è dura, siamo tutti bravi, da quello che infatti stiamo vedendo queste prime settimane non c'è mai uno schema fisso avanti. Abbiamo giocato tutti fino adesso e credo che abbiamo fatto bene tutti. Quindi c'è da lavorare, c'è la giusta concorrenza, credo che è giusto che ci sia a Cosenza. E la risposta comunque che si aspettava il mister, perché nelle interviste ha detto che ho visto finalmente quello che chiedevo. Sì, sì, è vero. Durante la settimana, questa settimana, abbiamo lavorato secondo me benissimo tutti quanti. Oggi abbiamo fatto, secondo me, una buona partita, soprattutto dal punto di vista del possesso palla, che poi è quello che ci chiede il mister. Quindi credo che lo stiamo seguendo e stiamo cercando di fare quello che vuole e i risultati comunque si stanno cominciando a vedere. Cosenza molto tecnico, sarà favorito nel periodo invernale? Ma io credo che questa squadra non sia solamente tecnica, sia anche comunque una squadra fisica, perché comunque attaccanti come De Angelis, in motion sono attaccanti potenti, forti fisicamente. Credo anche gli esterni, comunque sia. È vero che non siamo altissimi, però comunque sia siamo giocatori che hanno potenza, che hanno forza sulle gambe, quindi credo che non avremo problemi ad affrontare il periodo invernale. Tu i due centri già l'anno scorso hai fatto sfragirli con l'Assemblea del Tese. Quest'anno cosa ti proponi? Il mio obiettivo, sinceramente, quando sono venuto qua, è raggiungere la Lega unica, la C unica. Poi a livello personale naturalmente ho un mio obiettivo, però me lo tengo per me e spero di dirlo a fine anno.